Ciao ragazzi! Oggi vi presento le mie campane tibetane. Qualcuno di voi le conosce già, gli altri spero possano conoscerle presto, partecipando ad uno dei miei concerti meditativi. Sono sette, come le sette note e i sette chakra. Dei chakra, per ora ne vediamo solo la posizione, grazie al mio amico qui a fianco, poi ne parlerò meglio sicuramente in un prossimo video. Quindi, ogni campana ha svariati armonici e una nota principale. La nota va ad agire sul chakra, sul singolo chakra, aiutandomi a portare lì l'attenzione durante la meditazione. Ma poi, siccome il suono è un'onda, e grazie all'acqua di cui siamo fatti per circa il 70% che aiuta a propagare quest'onda, le vibrazioni vanno ad agire là dove il mio corpo ne ha voglia, bisogno o necessità, aiutandomi a ripristinare uno stato di benessere e di armonia. Quindi, come al solito, viva le campane tibetane! Namaste! Namaste!